Ciao a tutti ragazzi, oggi parliamo del nuovo Salomon Sense Pro 10, in particolare io ho la reversione Race Flag di colore bianco. Adesso insieme ne vediamo pregi e difetti e l'intero recessione completa. Inizio subito raccontandovi quello che più mi è piaciuto di questo Salomon Sense Pro 10, ovvero la sua stabilità. Vi assicuro non penso di aver mai trovato uno zaino così stabile. Una volta messo addosso, giusto regolato un attimo nella parte anteriore, si è pronti a correre e vi assicuro è stabilissimo. Io l'ho utilizzato su dei sentieri veramente sconnessi, l'ho utilizzato su dei sentieri anche tecnici. Che dire, è veramente molto stabile e forse è la cosa che più me l'ha fatto apprezzare. Ma cosa troviamo su questo Salomon? Inizio subito a descriverlo dalla parte anteriore. Sullo spallaccio di destra troviamo una piccola taschina posta in alto sopra la flasca chiusa da zip, nel caso ad esempio si voglia mettere magari il GPS dato in dotazione dall'organizzazione di una gara. La parte dove infilare la nostra soft flasca, del soft flasca sono andato in dotazione ma poi ne parliamo, con anche il cordino per andare a fissarla in modo tale che non balli. E poi sotto troviamo un'enorme tasca in cui andrà a riporre tantissime barrette. Davvero all'interno di ogni tasca ci possono stare anche 6-7 gel barrette senza nessun problema. E la cosa bella è che poi la tasca è anche tagliata nella parte posteriore in modo tale che se dobbiamo prendere qualcosa che abbiamo inserito per primo, non dobbiamo sfruttare completamente la tasca o stargli a ravanare. Veramente studiato molto molto bene. E poi sopra da questa tasca, nella parte esterna proprio dove c'è scritta Salomon, dove gli troviamo una tasca chiusa da zip in cui, ad esempio, possiamo andare a riporre il telefono che ci portiamo dietro durante i nostri allenamenti. Lo spallaccio di sinistra è molto simile. Stessa tasca con zip per gli oggetti che vogliamo ottenere a sicuro. Stessa tasca enorme per le barrette dove anche qua ci sono dentro tantissime barrette col taglio posteriore. E stessa tasca dove andare a riporre la borraccia con l'elastico per fissarla. La cosa che cambia è proprio la parte superiore alla soft flasca dove invece di trovare un'altra taschina chiusa da zip troviamo una taschina aperta in cui però possiamo comunque andare a inserire qualche oggetto se ne abbiamo bisogno. Per quanto riguarda la chiusura sulla parte anteriore, questa vi assicuro funziona bene. È un pochino difficile andare ad incastrare. Io ci ho litigato un paio di volte solo per incastrarla, ma poi una volta incastrata funziona benissimo. Non ha nessun problema, anzi è molto elastica, quindi anche quando andiamo a respirare, a fare dei bei respiri e si gonfia il torace lo zaino tende a gonfiarsi, quindi veramente super. E come dicevo fa sì che poi tutto lo zaino sia veramente molto stabile. Visto che poi ne ve ne parlavo, come vi dicevo in dotazione possiamo trovare anche due soft flasca. Queste sono delle classiche soft flasca di Salomon fatte tra Hydra Pack. E in particolare sono quelle che hanno il fondale rigido, la parte bassa rigida. Allora, devo dire che questa parte bassa rigida aiuta tantissimo quando dobbiamo inserire la soft flasca all'interno della tasca dello zaino. Però a me personalmente ha dato davvero tanto fastidio, perché trovare questa parte rigida, soprattutto quando vado a stringere molto lo zaino attorno al corpo, vi assicuro che questa parte mi ha dato davvero tanta noia, tanto fastidio. Mi ha fatto creare anche dei rossori sulla pelle. Personalmente io preferisco quelle senza la parte bassa rigida. Poi magari è una cosa solo mia, personale. Mi piacerebbe sapere anche da voi se utilizzando queste soft flasca rigide avete avuto lo stesso problema di sfregamento. Nel caso comunque sono facilmente sostituibili da delle soft flasca morbide e il problema sparisce. Continuo a parlarvi delle tasche di questo zaino, arrivando alla parte posteriore. Innanzitutto sul laterale, sul nostro fianco, troviamo due tasche aperte. Per quanto riguarda invece la parte posteriore, qui abbiamo una tasca unica, composta dalla zip che la apre praticamente per il 90%, ed è una tasca veramente grossa. Ed è grossa soprattutto perché è fatta in materiale elastico e quindi possiamo andare a inserire davvero tantissimi oggetti. Per una gara di ultra trail questa tasca basta e avanza. Nella parte posteriore poi troviamo naturalmente anche la tasca per inserire la sacca idrica, con la possibilità di far uscire la prolunga sulla parte anteriore e fermarla. Per quanto riguarda la traspirabilità, questo zaino è veramente molto molto traspirante. Non il più traspirante che abbia mai provato, probabilmente la serie ADV Skin è ancora un pochino più traspirante, però vi assicuro che è veramente veramente ottima. Io l'ho utilizzato in delle giornate calde di questo luglio-agosto, l'ho utilizzato davvero con più di 30 gradi e mi sono trovato veramente veramente bene. Mi è piaciuta davvero tanto la sua traspirabilità, anche perché lo zaino è composto da diversi tipi di mesh con tramatura più grande, più fine, in base al punto in cui va a cadere e davvero ha un'ingegnerizzazione che è veramente stata curata molto molto bene da Salomon. Unica nota che faccio su questo Salomon Sense Pro X, secondo me questa colorazione non ha senso. Davvero, questa colorazione bianca va bene, fa molto figo, l'abbiamo visto utilizzare da tanti pro, eccetera, però ragazzi lo zaino si sporca davvero con nulla, davvero con nulla. Ogni 2x3 siamo dietro a doverlo lavare e nonostante io l'abbia lavato diverse volte, in alcuni punti rimane comunque la chiazza di sporco che non andrà mai più via. Mio consiglio personale, prendetelo di un colore che non sia il bianco. Per quanto riguarda i bastoncini, abbiamo due possibilità di trasporto, ovvero nella parte posteriore con dei cordini dati in dotazione da Salomon per poterli trasportare nella parte bassa, oppure questo zaino è compatibile con la faretra di Salomon. Quindi aggiungendo una ventina di euro potete prendere la faretra e utilizzarla. Arriviamo alle conclusioni per questo Salomon Sense Pro X, nella mia versione in Resflag. viene venduto a un prezzo online di 110-120 euro, quindi comunque abbastanza contenuto come prezzo per essere uno zainetto di Salomon. Io ve lo consiglio sì, sì perché è davvero uno zainetto spettacolare, uno zaino col quale lo prendete oggi, va bene, spendete una cifra magari non proprio bassa, però ci è andato avanti tantissimi anni, è uno zaino veramente stabile, traspirante con tutte le tasche di cui avrete bisogno, e soprattutto uno zaino che vi permette di fare delle gare fino anche a 300 e passa chilometri, quindi veramente uno zaino molto molto polivalente. Io nella speranza sia stato esauramente sostitivo anche per questa recensione, vi ringrazio per la guardata e noi ci vediamo alla prossima. Ciao! Ciao!